Mi stanno scrivendo amici suoi, matti come lei, che scrivono, mi insultano, mi riempiono di minacce di morte, di minacce di morte visto che fa l'avvocato. Sa cosa fa? A me, io me ne frego, i voti di questi qua li schifo, mi fanno schifo. Quindi a me, di andare in cerca del consenso elettorale come fa lei, andando a scegliere una fetta bella e buona probabilmente di Novavax, perché solo lì può andare a prendere i voti, se li tenga pure tutti lei questi voti qua, io non li voglio. Da subito a favore del Green Pass e lo siamo ancora a maggior ragione sul Super Green Pass che stenderà l'obbligatorietà a tutti i lavoratori. Noi pensiamo che questa sia una misura giusta, responsabile, che andrà ad isolare, se vogliamo, la fascia di Novavax che ha deciso di non vaccinarsi. Sispondere per me, lì c'è Ronzulli, chi non si vaccina è un egoista, un opportunista, che può continuare a stare... No, voglio finire il discorso. È un irresponsabile, un opportunista...